Il viaggio nella capitale frutta tre importantissimi punti, il sesto posto per la rinascita Lago Negro di Coce Falabella che si è imposta per 3-1 contro il fanalino di coda del Club Italia. Avvio bruciante nel primo set per i lagonegresi che si trovano ben presto sul 7-1. Continua la marcia dei Valnocini e i soliti Kvalen e Galabinov si fanno trovare preparati quando Piazzali chiama in causa. Molti gli errori in battuta condizionano la gara ma il primo sigilo è di marca bianco-rossa. Il secondo set vede la situazione capovolgersi, i laziali provano a condurre il set sin dall'inizio sul 9-4 e i lagonegresi sembrano restare per un po' fermi fin quando non salgono in cattedra i soliti Kvalen e Boscaini e il set inizia a prendere una piega diversa. Nella fase centrale le due formazioni procedono in estremo equilibrio, si arriva sul diciottesimo punto al pareggio e poi punto a punto fino alla fine quando servono i vantaggi. Break e contro break sono i protagonisti del finale del set che permette agli uomini di Falabella di chiudere soltanto dopo una frazione molto combattuta con ben sette palle scambiate per chiudere il set sul 33-31. Il terzo set inizia con il vantaggio dei lagonegresi che conducono fino alle fasi finali di frazione quando gli azzurrini provano ad accorciare le distanze e si portano a meno uno sul 22-21. Ma poi i laziali si rifanno sotto e riescono ad annullare tre palle match e così si va nuovamente ai vantaggi ma questa volta ad avere la meglio sono i padroni di casa. Cambia completamente il gioco e l'atteggiamento dei lagonegresi nel quarto set. I lucani ben presto si sbarazzano della prestazione sotto tono vista negli ultimi minuti del terzo e risalgono in cattedra come un treno vanno diritti verso la loro strada. Così il finale di frazione e il match si chiude con la vittoria, l'ottava della stagione per i lagonegresi e con tre importantissimi punti che permettono a Giose e compagni di posizionarsi al sesto posto in classifica.